Primo round è invece adesso affrontato da Davide Kainic, Oliver Twist-Bail, cavallo di quest'oggi, il 113 di Testiera. L'importante vittoria del Cavaliere Friulano, nato nel 29 febbraio del 72, una gara di 1,50 m nell'Oxio 3 stelle di Budapest. L'importante vittoria del Cavaliere, L'importante vittoria del Cavaliere, Ed arriva subito la risposta di Davide Kainic, il secondo percorso indenne d'errori, lo firma in 72 secondi e 24, diventa per ora anche il miglior risultato.